Sabato Pecorro Nero ospiterà Bimbin Festa. Di che cosa si tratta? Si tratta di una festa dedicata a tutti i bambini e ai loro genitori. Prevede intrattenimenti di vario genere organizzati dalla cooperativa La Casa Morgana. Inoltre ci saranno dei laboratori, per esempio il laboratorio di danze popolari per i bambini degli elementari, mentre per i più piccini c'è un'infarinatura di massaggio neonatale e una mostra delle fasce porte bimbi. Inoltre importante sarà una bancarella di baratto per tutti i genitori di tutti i prodotti per l'infanzia. Questo a sottolineare il valore del riciclo e anche della solidarietà tra famiglie contro il consumismo della nostra vita occidentale. Inoltre è un occhio di riguardo sempre per i prodotti del copercio eco solidale che provengono dai paesi del terzo mondo e attraverso questo circuito si aiuta il sostegno alle famiglie più povere e si contrasta il lavoro minorile. Grazie. Grazie.